ora franco giuseppe si è presta ad assaggiare questa delizia offertaci però la kid ha detto visto che voi siete morti di fame prendete questo massoio e mangiatelo tutto pezzenti questi qua mi spigano, questo no perchè cos'è questa roba bianca? questo dolcetto bianco, zucchero a velo, cosa c'è? torta limone, la riapra questo invece, questa è sacchia? no non è sacchia, è cioccolata cioccolata ci sono cioccolata bello, boccate adesso hai le pupille che stanno facendo un'orgia di gusto? no, di più anche, gang bang stanno facendo una gang bang si nasconde lavora è il lavoro, li lascia metti da voi mi sento scuola al limone anche i tuoi occhi stanno ridendo, anche i capelli stanno ridendo di gusto senti i capelli saluta la barista che ci ha dato il vassoio la carota? si, la carota, quando sorride una carota che stronza, lo sapevo non è che sta aspettando il dolcetto? stanno aspettando si, si, mette stop a che mangiamo grazie grazie